hotel resort villa danilo dalle camere al ristorante dal centro benessere alla piscina tutto è stato pensato per rendere davvero indimenticabile la tua vacanza in un luogo da sogno per la vacanza dei sogni al resto pensa la natura a gamberale nel parco nazionale della maiella info villadanilo.it Emanuele pesoli potremmo dire finalmente pescara tante volte in passato hai sfiorato questa squadra adesso nel 2014 ci sei raccontaci un po che cosa non funzionò dall'epoca della c1 e poi l'anno dopo di francesco e alla fine dopo sei anni quasi sei qua finalmente veramente sono contentissimo perché è stato un po come realizzare qualcosa che se ne era parlato prima invece non per colpa mia se questo posso garantirvelo perché io l'accordo l'avevo già trovato in c1 quando c'era il direttore lucchesi poi all'improvviso direttore di cittadella decise di non fare più l'operazione di togliermi dal mercato e quindi andò così arrivo a pescara con molto entusiasmo e spero di dare una mano a questa squadra al mister affinché insomma si possa fare un campionato all'altezza di questo nome cosa del progetto pescara ti ha convinto a lasciare una realtà consolidata per te come carpi dove comunque ottimamente figurato l'anno scorso e c'erano anche margini di crescita ma sicuramente la chiacchierata con il presidente l'entusiasmo che che mi ha mostrato e poi la grande piazza la grande piazza che ha fame di calcio uno stadio che quando venivo da avversario rimanevo così a bocca aperta nel vedere quella curva sempre gremita e quindi quindi questo poi il mare perché mia moglie è sarda la riporto al mare e quindi anche lei e la famiglia è contenta per un'intervista della settimana scorsa a pescara sport 24 ci hai raccontato di una telefonata con l'andò sforzini cosa ti ha raccontato di questo gruppo di questo nuovo allenatore nuovo per pescara ovviamente nando mi ha parlato benissimo la piazza anche se lui comunque ancora non si è riuscito a impone come gol prestazioni però sta lavorando affinché insomma possa fare un campionato all'altezza quindi mi ha parlato del mister che è una persona con cui si può parlare una persona molto equilibrata seria e in grande lavoratore chiudiamo con l'ineluttabile domanda sul tuo passato quanto la vicenda scommessopoli e poi la squalifica ridotta a dieci mesi dal tenas ti ha segnato più come uomo che non come calciatore ma sicuramente sicuramente mi ha segnato come uomo e mi ha fatto crescere poi come uomo perché da lì ho capito veramente tante cose e ho pesato ho valutato tante persone che magari prima giravano intorno e poi sono scappate quindi da lì da questa vicenda mi è tornato l'entusiasmo che magari un po' stavo perdendo con gli anni perché comunque a 34 anni magari dopo una carriera lunga e vai un po' così a smettere di testa invece adesso io da quando sono rientrato ho l'entusiasmo di un ragazzino quindi sotto questo aspetto il pescara ha fatto un grande affare concludiamo così anagraficamente 34 anni di spirito e di voglia 20 20 20 anni sì sono 93 94 grazie a tutti